Musica Via i reparti di urologia o Torino e chirurgia di media e bassa complessità da Sesti Levante, l'ASL4 rassicura l'ospedale Sestrese sarà un polo riabilitativo d'eccellenza, i lavori sono già finanziati. Siamo uomini e donne mendicanti di amore, lo ha ricordato il Papa all'udienza, ribadendo che c'è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra mai fatto e potrà mai fare. In festa la famiglia rosminiana per l'anniversario della fondazione della famiglia religiosa. A Chiavari la messa celebrata dal vescovo a casa Rosmini in piazza Torriglia. Una giornata di studio per conoscere meglio l'ebraismo si terrà sabato a Chiavari per iniziativa delle chiese cristiane del Tigulio. In programma anche la visita alla sinagoga di Genova. Essere donna, nascere mamma, la rete sociale che accompagna la famiglia nell'accoglienza di un figlio. Sabato a Chiavari si terrà un convegno che illustra testimonianze e percorsi di sostegno. Serie C, Virtus Entella al comando del girone A. Bianco Celesti a 49 punti dopo la vittoria di oggi al comunale contro la Pistoiese. Il recupero è finito 3 a 1 per gli uomini di Boscaglia. Buonasera a tutti, bentornati a Tigulio oggi. La sanità in apertura. L'ospedale di Sestri Levante sarà un polo d'eccellenza per la riabilitazione. I lavori sono finanziati, occorre attendere i tempi degli appalti. A dirlo questa mattina la direttrice dell'Asle 4 Bruna Rebagliati dopo le critiche legate allo spostamento dei reparti, il cui inizio è in programma venerdì. Incontro oggi tra sindacati e Asle 4 sul tema della riorganizzazione aziendale. Sul tavolo le tutele dei lavoratori in vista dello spostamento dei reparti, un cammino che prosegue da mesi come assicura la direttrice Bruna Rebagliati. Venerdì infatti aprono i cantieri, l'otorino, la ringoiatria e l'urologia passano da Sestri Levante al quarto piano dell'ospedale di Lavagna. La chirurgia di media e bassa intensità vanno a Rapallo. Per Rebagliati si tratta di un cambiamento di valore. Pensate che oggi, ad esempio, i pazienti che dovevano effettuare interventi ad elevata complessità venivano trasferiti all'ospedale di Lavagna, dove comunque non c'era un reparto dedicato urologico all'interno del reparto chirurgico, quindi c'era una difficoltà nell'effettuare questi interventi che oggi verrà superata. Sicuramente la presenza della rianimazione facilita e tranquillizza tutte le interventi ad alta complessità che si spera sempre di no, ma potrebbero avere necessità di un supporto nelle prime ore dopo l'intervento. Da più parti, tuttavia, c'è allarme per lo svuotamento dell'ospedale di Sestri Levante. La ASL rassicura il nosocomio sarà dedicato alla riabilitazione d'eccellenza e chiede pazienza in quanto vanno rispettati i tempi dei codici degli appalti previsti dalla legge. Il primo cantiere che partirà a brevissimo è proprio quello delle palestre a sesto piano. Il nostro ufficio tecnico sta lavorando da mesi, però mi creda. I tempi davvero previsti dal codice degli appalti sono enormi. Posso però assicurare davvero tutti che i lavori che abbiamo previsto nell'ospedale sono finanziati dal bilancio dell'azienda, quindi sono reali. Lavori che faremo non appena completati, tutti le fasi normativamente presenti del progetto preliminare, progetto esecutivo, progetto definitivo, quindi gara d'appalto, quindi individuazione della ditta che effettuerà i lavori e finalmente esecuzione dei lavori. Anche il completamento dell'urologia e dell'ottorino di questi giorni è proprio il frutto di questo lavoro. Lo stesso stiamo facendo sul pronto soccorso di Lavagna, che verrà enormemente potenziato, migliorato nella sua capacità di recezione, nella sua capacità di offrire un'assistenza di elevatissima qualità e anche su questo abbiamo fatto tre lotti e su questi tre lotti stiamo lavorando per garantirgli continua operatività perché il pronto soccorso non si ferma mai nel rispetto delle regole e della legge che ci impone dei tempi specifici. L'incontro di oggi in Asle con i sindacati, come dicevamo, è stato importante per parlare delle tutele dei lavoratori dell'azienda. I rappresentanti RSU si dicono preoccupati e oggi hanno manifestato il disagio dei dipendenti e di tutto il settore coinvolto nello spostamento dei reparti. L'impressione, dicono, è che l'organizzazione aziendale sia andata avanti senza ascoltare le opinioni dei lavoratori. È iniziata questa mattina la discesa dell'impalcato tra la Pila 6 e la Pila 7 del Ponte Morandi a Genova. Andiamo col computer anche sul sito dell'Ansa della Liguria. Parliamo della trave che ha impiegato circa otto ore per scendere da un'altezza di 45 metri. Le operazioni sono state favorite anche dal meteo. Intanto possiamo vedere anche le immagini realizzate col drone. Come avvenuto lo scorso 9 febbraio con il primo impalcato, la complessa operazione è iniziata ieri sera con il taglio della trave ed è durata tutta la notte. Serviranno ancora diverse ore per portarla a terra. Si tratta di un pezzo del peso di 916 tonnellate, 36 metri di lunghezza e 18 di larghezza. Siamo all'informazione religiosa. Il Papa questa mattina ha proseguito la catechesi sul Padre Nostro soffermandosi sull'amore di Dio Padre che è nei cieli. Anche se per sventura i nostri genitori non ci avessero amato, ha spiegato il Pontefice, e anche se tutti i nostri amori terreni si sgretolassero, per tutti c'è sempre l'amore del Signore. La sintesi della Radio Vaticana. Gli uomini cercano l'amore fin dal primo giorno della vita. Siamo mendicanti di amore, ma si sperimenta spesso che le relazioni sono segnate da limiti ed egoismo. Tutti abbiamo l'esperienza di aver amato in maniera debole e intermittente. Nella catechesi all'udienza generale il Papa traccia questa analisi esistenziale sull'amore umano e ricorda che esiste però un altro amore, quello del Padre che è nei cieli, di cui nessuno deve dubitare di essere destinatario. L'amore di Dio è costante sempre. Dice il profeta Isaia, ascoltate che bello è questo, eh? Si dimentica forse una donna del suo bambino? Così da non commuoversi per il figlio delle sue biscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Oggi è di moda il tatuaggio. Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Ti ho fatto un tatuaggio nelle mani. Io sono nelle mani di Dio. Così, e non posso toglierlo. L'amore di Dio è come l'amore di una madre che mai può dimenticarsi. E se una madre si dimentica, io non mi dimenticherò, dice. Questo è l'amore perfetto di Dio. Così siamo amati da Lui. Dopo l'accordo di pace firmato all'inizio di febbraio in Repubblica Centroafricana, l'UNICEF richiama l'attenzione sui bambini del paese. Uno su quattro è sfollato rifugiato, milioni non frequentano la scuola e tanti rimangono tra le fila dei gruppi armati. La firma dell'accordo di pace è un passo positivo verso una pace duratura e la speranza di un futuro migliore per i bimbi del Centroafrica. Così, Enrietta Fore, direttore generale di UNICEF, commenta l'accordo firmato il 5 febbraio a Khartoum, in Sudan, tra il governo di Bangui e 14 gruppi armati per un progressivo disarmo dei ribelli e la cessazione delle ostilità. Veniamo adesso in diocesi. In festa oggi i sacerdoti e le suore della famiglia rosminiana. Ricorre infatti l'anniversario della fondazione della loro congregazione, istituita per intuizione del beato Antonio Rosmini, religioso e filosofo vissuto a cavallo tra la fine del 1700 e l'inizio dell'800. In questa occasione il Vescovo ha celebrato l'Eucaristia a casa Rosmini a Chiavari. Vediamo. Oggi tutte le comunità rosminiane sono in festa. Sono in festa davvero in tutti i cinque continenti. sono in festa in Venezuela con tutte le sue tribolazioni, ma fanno anche loro la loro celebrazione solenne, padri e suore. In Tanzania, in India, in Kerala, in Marastra, e noi qui in Italia che abbiamo la casa natale, abbiamo la cella dove lui ha cominciato, proprio come oggi nel 1828, l'inizio della nostra fondazione, della fondazione dell'Istituto della Carità, che sono i padri, le suore della provvidenza, che poi hanno avuto un grande sviluppo fin dall'inizio. Adesso sentiamo anche noi i problemi delle vocazioni. Però le case come questa di Chiavari funzionano molto bene. Noi suore siamo contenti di rispondere, secondo il nostro carisma, all'accoglienza delle persone. Da quanto tempo conosce la famiglia rosminiana? In pratica da quando ci siamo sposati, perché siamo andati a abitare in una zona dove c'era la parrocchia rosminiana. Quindi mio figlio è stato battezzato lì, comunione, e poi abbiamo vissuto con mio marito la vita della parrocchia, facendo diverse cose, ecco, negli anni. Qual è la caratteristica dei sacerdoti rosminiani? Dunque, qual è forse la loro spiritualità? Io ho trovato una grande apertura mentale, cioè persone al passo con i tempi, con i problemi della società, cioè pur mantenendo intatta quello che sono la fede, i principi, i dogmi, tutto quello che vuole, però l'apertura alle varie mutazioni, alle varie problematiche, a me ha colpito questo aspetto. L'ho conosciuto andando su al Calvario, per un po' di giorni, anche un ritiro, quello che era la spiritualità dei rosmini, tutti i suoi scritti, che mi ha molto colpito per l'avanguardia, per i suoi tempi. E a parte questo, ho sempre poi seguito la parte della parrocchia e mi sono sempre trovato bene. Di Rosmini che cosa le è piaciuto soprattutto quando l'ha studiato? La sua apertura alla fede. E ora parliamo di una giornata di studio dedicata all'ebraismo. si terrà sabato, 23 febbraio, dalle 9 alle 13, nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari. È una giornata proposta dalle Chiese Cristiane del Tiguglio. Interverrà Gianpaolo Anderlini, sarà possibile pranzare insieme e iscriversi alla visita alla Sinagoga di Genova in programma lunedì 25 febbraio. L'intervista. È un'iniziativa che abbiamo preso già l'anno scorso, nel desiderio appunto di dedicare un po' di tempo a studiare, aiutati da alcuni maestri, ciò che poi ci muove nel presentare, vivere i momenti della preghiera ecumenica, ad esempio, o gli incontri del dialogo. Quest'anno abbiamo pensato di approfondire in particolare il mondo dell'ebraismo, che è un po' la primissima realtà con la quale noi cristiani dobbiamo entrare in dialogo. Perché il cristianesimo, come dire, fiorisce sull'esperienza ebraica, condividiamo tantissimo e possiamo in qualche modo pensare al dialogo appunto con gli ebrei come al paradigma di ogni altro dialogo, tenendo conto anche che alle spalle abbiamo 19 secoli di anti-giudaismo cristiano. Quindi c'è una conversione da compiere che è già in atto, che chiede anche un po' questa fatica, ma questa bellezza, io dico, della conoscenza e anche dell'incontro. Come sarà strutturata la giornata? Appunto, sabato 23, sarà tutta la mattinata intensa, ci guiderà un altro maestro, Gian Paolo Anderlini, professore che viene da Parma, redattore della rivista Col, esperto di ebraismo. La cosa bella è che quest'anno si svolge proprio nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari a dire che condividiamo, in senso anche ecumenico, questa giornata. E poi avrà un appendice, due giorni dopo, a lunedì, vogliamo andare a far visita alla comunità ebraica di Genova. Abbiamo conosciuto il rabbino, Giuseppe Momigliano, incontreremo lui, visiteremo la sinagoga e avremo anche occasione di conoscere qualche membro della comunità. La scuola di teologia della nostra diocesi organizza, tra l'altro, un corso proprio specifico sul dialogo interreligioso, segno che c'è effettivamente un interesse diffuso. Decisamente. L'anno scorso abbiamo presentato per la prima volta un corso sull'ecumenismo e la partecipazione è stata molto ampia e vivace da parte di tante persone. E allora è sembrato bello continuare questa proposta allargando questa volta il tema del corso, sarà proprio il dialogo interreligioso. Viene affidata ancora la professoressa Franca Landi della Dioci della Spezia, con cui già collaboriamo molto. Andiamo sul nostro sito www.teleradiopace.com L'Istituto Caboto di Chiavari e Santa Margherita Ligure ha vinto il bando di concorso Cinema Scuola Lab per gli anni 2018-2021. 50.000 euro di finanziamenti che permetteranno agli studenti di approfondire le tematiche culturali e professionali legate al mondo della cinematografia. Il concorso è indetto congiuntamente dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali. Il progetto vincitore si intitola Nuovo Cinema Caboto il cui logo, lo vedete nell'immagine, è stato realizzato da Nicola Chiarini della Quarta di Grafici. Il Caboto realizzerà incontri tra generazioni, rassegne cinematografiche prestando attenzione ai patrimoni culturali presenti sul territorio. A breve saranno disponibili account Facebook ed Instagram di Nuovo Cinema Caboto dove si potranno trovare tutte le informazioni degli eventi in programma. Cambiamo argomento. La nascita di un figlio è un momento importantissimo nella vita di coppia che comporta soprattutto nella donna diversi cambiamenti. In alcuni casi le neomamme devono essere accompagnate nel loro ruolo e incoraggiate nella crescita del neonato. Per facilitare questo compito l'ASL4 dal 2011 ha avviato un progetto a tutela della salute mentale delle mamme. I frutti di questo percorso saranno illustrati sabato mattina alla Società Economica di Chiavari nel corso di un convegno dal titolo Essere Donna Nascere Mamma Le interviste Perché questo titolo? Allora, questo titolo è stato pensato insieme a un tavolo di lavoro che è nato all'inizio del 2018 grazie a questo progetto che è stato promosso da Alisa e che ha permesso tramite l'erogazione proprio di fondi di porre una maggiore e ulteriore attenzione a quella che è la salute mentale per il Natale. Sabato, presso la Società Economica dalle 9 all'1 ci sarà proprio questo intervento dove racconteremo che cos'è cosa significa essere donna e nascere mamma e tutte le fatiche e i vissuti di trasformazione che la donna attraversa nella fase della gravidanza la famiglia in preparazione dell'accoglimento del bambino che verrà verranno raccontati quelli che possono essere i sintomi che la mamma sente sia in gravidanza che poi nel postpartum raccontando tutti quelli che sono i servizi e la rete presente sul nostro territorio. Quali sono i servizi che l'ASL offre per l'accoglienza della maternità? La nostra ASL in questo già da diversi anni dal 2011 ha attivato un progetto di prevenzione e trattamento e presa in carico della depressione postpartum. Questo progetto è un progetto interdisciplinare quindi nasce attraverso proprio l'unione di forze di più servizi servizio di salute mentale il consultorio familiare i medici di medicina generale i pediatri cioè diverse figure professionali si interfacciano facendo proprio rete la collega parlava appunto di rete sociale rete familiare anche la rete dei servizi vuole poter essere di supporto alla donna e alla famiglia nel postpartum e in gravidanza. non cambiano le tariffe di ATP risalenti al 2016 e per il terzo anno consecutivo resta bloccato il prezzo degli abbonamenti annuali e mensili lo ha comunicato oggi l'azienda vengono anche mantenute invariate le tariffe per i mensili integrati AMT e ATP che consentono di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico che operano nell'area della città metropolitana di Genova con un unico abbonamento al costo fisso di 70 euro sia per pendolari sia per studenti. Ha preso il via oggi nella casa di reclusione di Chiavari lo sportello informativo rivolto ai detenuti disposti a iniziare un percorso di reinserimento sociale e di riavvicinamento al lavoro. I volontari cercheranno di aiutare le persone che stanno per uscire dal carcere nella ricerca di un'occupazione nella stesura del curriculum vite e nella ricerca delle competenze individuali. Lo sportello sarà aperto il mercoledì ogni due settimane. A gestirlo il Sol CGL e l'Arci ma collaborano anche altre realtà come Caritas a Acli il mondo dell'associazionismo privato. Questa mattina ha spiegato Alfredo Pungiglione di CGL si sono rivolti allo sportello due detenuti prossimi all'uscita dal carcere. Partirà entro la fine di febbraio in tutte le farmacie Liguri aderenti un progetto per aiutare il paziente asmatico a conoscere meglio la propria malattia e a promuovere il corretto uso dei farmaci da assumere. In tutto saranno oltre 400 le farmacie coinvolte per un contatto diretto con almeno 1000 persone. L'iniziativa comporta il monitoraggio del paziente con un intervallo che va da 3 a 6 mesi e l'ulteriore compilazione di un questionario per valutare se abbia seguito la terapia e se il suo stato di salute sia migliorato. L'obiettivo è di potenziare l'aderenza alla terapia contribuendo a ridurre l'incidenza di asma grave non controllata. Siamo alla cultura cambiamo argomento ai corsi di cultura genovese si è parlato del prebugiun il nome dialettale che viene dato alle erbe spontanee una tradizione antica che forse si sta perdendo con tante curiosità e molteplici proprietà nutrizionali siamo andati a sentire. Il prebugiun rimane una tradizione forte del nostro territorio secondo lei? Le erbe che raccogliamo nel nostro territorio sono piante spontanee che vengono raccolte chiaramente nelle fasce sotto gli olivi ed è una tradizione antichissima da preservare molto importante. Che tipo di erbe si possono trovare? Possiamo raccogliere ben 24 specie diverse di erbe spontanee Facciamo qualche nome? I nomi dialettali più conosciuti sono le cicergue poi abbiamo i tagenetti le talegue abbiamo appunto le foglie anche della ioseris radiata la ioseride la foglia di papavero anche che si possono raccogliere chiaramente ci sono i raccoglitori esperti che si possono trovare anche nei mercati insomma del nostro territorio che possono fornirci un pre-bougiun sicuro e ben mescolato Da nutrizionista perché è importante mangiarle? Che proprietà hanno? Fanno bene? Allora intanto bisogna dire che in questa mescolanza di erbe spontanee abbiamo anche le bietole e abbiamo anche le boragini che sono due specie coltivate l'importanza di mangiare spontaneo è importante perché abbiamo sicuramente delle principie antiossidanti che possono essere molto utili per la nostra salute e di prevenzione anche di alcune patologie importanti L'erbe spontanee in che cosa vengono utilizzate in cucina? Principalmente per i ripieni che possono essere semplici frittate torte pasqualine e poi nel nostro caso per i pansotti che è un prodotto localissimo la ricetta che propongo io è la ricetta della mia famiglia dal 1800 questa ricetta sono riuscita a risalire facendo le ricerche nell'ambito familiare e portata avanti da mia zia da mia madre con negozi di pasta fresca Santa Margherita e Rapallo Forse sono un po' amarogno lei si può smorzare questo? Sì si smorza generalmente con della ricotta l'abbinamento è anche con la salsa di noce il condimento della salsa di noce e dolciastra per cui l'abbinamento si equilibra ecco A Santa Margherita Ligure è arrivata la prima spazzatrice elettrica il mezzo spazza disinfetta ma anche profuma i marciapiedi lo vediamo nelle immagini pulizia e disinfezione raggiungono anche i muri degli edifici per un'altezza di circa 12 centimetri il mezzo commercializzato da Ecomon è stato acquistato dal gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti Dox Lanterna le caratteristiche principali del macchinario sono la propulsione elettrica la raccolta della spazzatura in un unico sacchetto l'aspirazione attraverso un filtro per evitare la polvere e la sanificazione per mezzo di acqua e disinfettanti nuovo incontro informativo a Zoagli sul sistema di raccolta differenziata che è svolta dalla ditta Aprica la riunione si svolgerà venerdì 22 febbraio alle 20 e 30 nella sede dell'ex scuola nella frazione di Sant'Ambrogio i residenti sono invitati a partecipare mentre a Chiavari domani chiuderà il traffico via Bado Giannotto per facilitare le operazioni di pulizia dei canali delle acque bianche e consentire la rimozione dei detriti e delle vasche di decantazione che si trovano in quest'area i lavori inizieranno a partire dalle 8 e 30 ora sfogliamo l'agenda di Telepace e tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani appuntamenti in agenda per giovedì 21 febbraio è aperto alle visite il museo archeologico in via Costa Aguta a Chiavari si possono ammirare i reperti dell'età del bronzo e quelli relativi alla necropoli chiavarese della prima età del ferro l'orario dalle 9 alle 14 pilastri della natura è il titolo della mostra di Roberto Scarpone allestita nella chiesa di San Nicolò di Capodimonte e a Camogli si tratta di un'esposizione di scultura curata da Flavia Motolese visitabile sino al 17 marzo tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 13 e dalle 15 alle 17 e 30 nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nei locali di Villa Queirolo Stefania Zanardi tratterà il tema l'Europa nel pensiero antico nel foyer dell'auditorium San Francesco di Chiavari è sempre allestita la mostra Dalla parte dei Buoni dedicata alla vita e all'opera di Renzo Calegari l'esposizione è curata dall'associazione Il Bandolo è aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 19 nei festivi e nei prefestivi anche dalle 10 alle 12 l'ingresso è libero e infine una bella differenza è il titolo dell'incontro con l'antropologo Marco Aime e l'attore Giorgio Scaramuzzino l'inizio alle 21 allo spazio aperto di Via dell'Arco di Santa Margherita Ligure al centro la differenza tra i vari esseri umani vista come un arricchimento E ora lo sport il calcio la Serie C per la prima volta dall'inizio del campionato nel Girone A la Virtus Entella è al comando della classifica oggi nel recupero contro la Pistoiese i Bianco Celesti hanno vinto 3 a 1 dopo essere andati sotto con un rigore al dodicesimo del primo tempo gli uomini di Boscaglia hanno pareggiato all'inizio della ripresa con Chiosa Timota Carvaglio la rete del vantaggio e del 3 a 1 una bella vittoria in una partita sicuramente non facile che non si era messa nel migliore di modi una classica per i terrestri e b poteva nascondere veramente molte insidie è una partita giocata molto molto bene dalla squadra siamo partiti benissimo abbiamo avuto diciamo quel momento in cui non abbiamo accorciato in avanti ci siamo portati gli uomini dentro l'area di rigore nell'unica occasione tra l'altro nella situazione del primo tempo abbiamo subito il rigore però la squadra non si è scomposta assolutamente ha fatto il gioco ha fatto tutto quello che doveva fare siamo andati al tiro più volte abbiamo sferato il pari in tante occasioni quindi la squadra non si è mai disunita ha fatto bene le chiedo se per qualche minuto darà il permesso ai ragazzi di vedere la classifica stasera no ragazzi sono libri di fare quello che vogliono l'importante è che quando vengono al campo lavorino per come stanno facendo per come si stanno impegnando quindi la media punti è stata sempre una media punti altissima quindi questo lo sapevamo tante partite da recuperare adesso stanno cambiando un po' di cose hanno tirato la propria scienza quindi un po' di cose vanno a posto ancora abbiamo tanto da recuperare però ripeto i conti li facciamo a maggio dopo il gol del 3-1 Boscaglia ti ha concesso la stand innovation di tutto lo stadio quanto ti ha fatto piacere no no mi fa sempre tanto piacere giocare qua davanti al nostro pubblico che è sempre con noi deve essere sempre con noi perché anche loro sono importanti per noi quindi dobbiamo essere tutti insieme fino alla fine per la prima volta l'entra è la sola davanti sì la classifica sappiamo bene tutti che cambia è cambiata ieri cambia oggi quindi non bisogna guardarla sicuramente l'essere a 49 punti è un gran traguardo ma questo non deve farci cullare su questa situazione domenica abbiamo una partita fondamentale e dobbiamo ripartire da questa buona prestazione recupero di campionato oggi anche nel girone A della serie D il Sestri Levante oggi pomeriggio ha ospitato al Sivori il Savona la partita è finita sul risultato di 5-2 per gli avversari dunque il Sestri Levante resta fermo a 27 punti fuori dalla zona play-out il Savona sale a 44 alle spalle di Lecco e Sanremese nel campionato di serie A1 femminile le ragazze della Rapallo Pallanuoto hanno recuperato nel pomeriggio la prima giornata del girone di ritorno le rapallesi che ospitavano in casa la SIS Roma hanno perso 8-7 pubblico delle grandi occasioni sugli spalti con le tribune piene nonostante il pomeriggio infrasettimanale tra i presenti il CT del Sette Rosa Fabio Conti Giuseppe Di Cuonzo è il nuovo allenatore della prima squadra dell'Oltrepovo Ghera formazione che milita in serie D Di Cuonzo vive a Chiavali ed è stato l'allenatore dell'Entella nella stagione 97-98 è membro del consiglio direttivo della sezione del Tiguglio dell'Associazione Italiana allenatori di calcio era l'ultima notizia del nostro telegiornale continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com l'appuntamento con l'informazione locale torna domattina alle 7.30 con il buongiorno di Telepace grazie per averci seguito arrivederci Grazie a tutti